buongiorno a tutti per il quarto giorno consecutivo abbiamo appena terminato la diretta skype con le famiglie e con alcune persone con demenze che hanno aderito alla nostra iniziativa totalmente gratuita distanti oggi vicini domani una iniziativa che lo ricordo è partita lunedì scorso rivolta alle famiglie con i propri cari malati di demenze e rivolta anche alle persone con demenze un team di cinque operatori a vostra completa disposizione che possono supportare e sostenere le famiglie attraverso anche dei collochi sia collochi psicologici sia individuali e sia di gruppo attraverso consigli attraverso conforto attraverso strategie per poter vivere queste giornate veramente molto molto difficili e perché no fare anche una chiacchierata e cercare di capire anche insieme ad altre famiglie come potersi aiutare gli uni con gli altri e naturalmente è anche un servizio che è rivolto alle persone con le demenze perché i nostri operatori sono in grado di fare delle stimolazioni molto importanti grazie anche alla loro formazione con il metodo teci e cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 solo attraverso un collegamento skype voi potrete avere proprio la possibilità di parlare con noi operatori quello che io voglio dire in questo momento è un chiedere scusa perché io chiedo scusa alle tante persone che mi stanno contattando su messenger e stanno scrivendo dei loro disagi in questi giorni stanno scrivendo delle loro difficoltà in questi giorni sicuramente per loro è un modo per poter parlare è un modo per poter trovare una via di sfogo una via di conforto con la certezza di trovare dall'altra parte una persona che li ascolta una persona che legge quelle che sono le loro disperazioni ma io vi chiedo veramente scusa vi chiedo scusa perché non riesco a rispondere e non voglio rispondere non voglio rispondere perché non per mancanza di volontà ma soltanto perché ritengo che ogni comportamento che appartiene al vostro caro che ha una demenza è un comportamento che va capito è un comportamento che va decodificato rispetto a quello che è stata la vita passata dei vostri cari io non posso scrivere quello che magari per me potrebbe essere una risposta ma che poi non è non è l'esatto corrispondente alla vita delle vostre dei vostri cari e io non ho mai pensato che di fronte ad un atteggiamento di fronte ad un comportamento di una persona con una demenza ci possa essere una verità assoluta ci possa essere un timbro del tipo si comporta così perché e allora io vi faccio un'altra proposta contattatemi pure su messenger ma io vi darò il numero del nostro di alcuni cellulari che può essere il mio numero di cellulare o il numero di cellulare della nostra psicologa di qualche altra nostra terapeuta che magari accetta oltre alla diretta skype di fare anche questo tipo di come posso dire questa questo momento di dare di offrire di donare questo ulteriore momento d'ascolto quindi ecco vi chiedo scusa non lo faccio perché perché non lo voglio fare non lo faccio perché magari scriverei delle cose che non corrispondono alla verità mi piacerebbe invece parlare con voi mi piacerebbe guardarvi negli occhi così come sta accadendo veramente per tante altre famiglie ho detto in una precedente in un precedente scritto che ho fatto in questi giorni che è un disturbo del comportamento che magari accentuato in questo in questo delicato momento bisogna ancora di più capirlo bisogna ancora di più mitigarlo e non eccetto soltanto con l'aumento di un farmaco che si possano mitigare alcune cose molto spesso il comportamento diverso dipende da voi noi stiamo dando veramente tantissimi tantissimi consigli alle famiglie e e lo stessa la stessa cosa vorrei fare con chi mi sta scrivendo e per cui quello che vi chiedo scusate il mio cane che avvaia quello che vi chiedo è contattatemi pure su messenger però magari lasciateci i vostri cellulari e noi saremo noi a a contattarvi anche su whatsapp perché è importante per noi guardarci negli occhi è importante stare oltre che essere è importante o meglio stare oltre che esserci è importante capire capire la persona con una demenza importante che voi ci raccontiate quelle che sono state le sue abitudini le sue esperienze i suoi momenti sì i suoi momenti no perché da questo e da questo che molto spesso è proprio corrisponde o deriva un non certo comportamento quindi io vi chiedo veramente ancora scusa mi auguro mi auguro di essermi spiegata mi auguro di essermi spiegata con voi e niente vi do appuntamento a domani perché domani ci sono ancora delle dirette skype e niente cosa dirvi buona vita a tutti ragazzi speriamo di uscirne fuori speriamo veramente di uscirne fuori e vi ricordo un'altra cosa vi ricordo che sul nostro sito www.associazioneraggi.org potete trovare nella sezione nella sessione sos sosteniamo sosteniamo sos teniamo le famiglie in questa proprio in questa sezione e potete trovare proprio tantissimi video che non sono altro che la spiegazione alle tante domande che le nostre famiglie ci chiedono le nostre famiglie ci fanno quando entrano all'interno del centro di urno o comunque quando partecipano ai nostri alzheimer caffè quindi è una raccolta molto vasta una raccolta che noi stiamo implementando ulteriormente e niente vi auguro veramente una buona serata ciao